Ferragosto, un giorno di festa per la cultura. Anche quest'anno, il 15 agosto, giorno dell'assunta, il Ministero per i beni e le attività culturali aprirà ai visitatori il suo ricco patrimonio di musei, monumenti e palazzi. Molti dei luoghi dell'arte coinvolti, anche nel Salernitano, che rappresenteranno un'opportunità privilegiata per trascorrere un Ferragosto davvero speciale alla riscoperta della ricchezza culturale del nostro territorio. Stamani, nel corso di un incontro presso la soprintendenza in Via Tasso, Michele Faiella, funzionario per la promozione della comunicazione, Rosanna Romano, funzionario storica dell'arte e delegata della soprintendente, hanno illustrato il programma delle aperture della giornata di Ferragosto a Salerno e provincia. Il complesso monumentale di San Pietro a Corte resterà aperto gratuitamente dalle 9.30 alle 18.30, mentre solo al mattino il museo virtuale della scuola medica salernitana. Quest'anno la soprintendenza Sabap, che da un paio di mesi è stata accorpata anche con la soprintendenza archeologica, quindi siamo in pratica tre soprintendenze in una, dirette dall'architetto Francesca Casule. Apre per Ferragosto straordinariamente i siti sia salernitani che della provincia. A Salerno saranno aperti tutta la giornata, tra l'altro teniamo conto che Ferragosto capita di lunedì, solitamente i musei stanno chiuse, ma quest'anno è anche particolare perché è un weekend lungo, sabato, domenica e lunedì. Solitamente appunto i turisti scelgono anche solamente insomma i weekend lunghi e quindi sarà aperto San Pietro a Corte il museo virtuale della scuola medica salernitana, per quanto attiene ai nostri musei di nostra competenza. Ed è un momento importante per i salernitani, i turisti che girano per la città in questo periodo, per visitare soprattutto il museo di San Pietro a Corte, che è uno degli esempi massimi della cultura cittadina, rappresentante la cultura sia romana che che longobarda. E poi c'è il museo, il piccolo museo della scuola medica salernitana, che è una vera chicca per quanto riguarda tutto ciò che attiene alla scuola medica. È un museo virtuale, quindi sono immagini, racconti ed è anche questa un'occasione per chi ancora non conosce questi musei per visitarli. In provincia poi apriamo molti siti archeologici, siti e parchi, da sottolineare il sito di Volcea a Buccino, il sito di Velia a Minori, il sito archeologico di Minori, la Villa Romana e tanti altri anche nella provincia di Avellino, tipo quello di Mirabelle Clano. Quindi tanti sono i siti e tante le possibilità da parte dei turisti di muoversi, sia che stanno nelle zone di mare, sia che stanno nelle zone di collina. E quindi auspichiamo che le presenze come si è rilevato in questi ultimi tempi, soprattutto a Velia, siano tante anche per questo weekend. Un'occasione perché appunto il lunedì solitamente stanno chiusi, ma noi con gli sforzi che possiamo fare anche con il nostro personale, quest'anno speriamo che la cosa venga gradita ancora di più. Un'occasione particolare anche per gli stessi salernitani, i musei saranno aperti gratuitamente, un'occasione anche per conoscere la storia della propria città. In tanti probabilmente non conoscono tanti siti e magari restare in città potrebbe essere un'occasione particolare. Sicuramente, anche perché io stessa vedo che quest'anno c'è molta gente in giro ad agosto, sia salernitani che turisti occasionali. E quindi magari potersi recare anche di pomeriggio, sera nel museo è un'occasione appunto per il salernitano, soprattutto per quello che solitamente non si rega nei musei. E quindi è uno sprono alla visita, quindi alla cultura e alla conoscenza del proprio territorio.